Sono Viviana Agnoni, responsabile estero della mia azienda Agnoni, la quale produce e conserva da tre generazioni prodotti agroalimentari del territorio pontino. I nostri prodotti derivano dalle antiche ricette che sono state tramandate dai nostri nonni di generazione in generazione. Produciamo in particolar modo una delle nostre eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale che è il nostro carciofo ed in più siamo produttori e coltivatori di 10.000 pianti di olivo, proprio per questo produciamo un olio extravergine di oliva assolutamente biologico. Grazie